E' un giochetto sessuale. Ma che cavolo succede lì? Ciao, siamo i vostri vicini. Benvenuti alla Knew. E' un ristorante greco? Ah, è la nostra sorellanza. Non ci credo che una sorellanza sia trasferita qui. Ora che facciamo? Non ti preoccupare. Le ragazze fanno poco casino. Lucia! Non si fanno di droghe pesanti. E' solo più intelligente. Dove sono? Oh no, l'ho ammazzata. Sono so tanti dollari, invece è stronzo. Knew! Ci serve un imbecille che sappia trattare con gli imbecilli. Ciao, vicini. Diamo un taglio a questa stronzata. Bel trovestimento. Tu fai lo psicopatico. Ma come, sono un clown. Tutti adorano i clown. Ma cos'è da psicopatico? Smettila, adesso. Vogliono demolire la nostra sorellanza. Ho un'idea. Facciamo lo scherzo dell'airbag. Non funzionerà. Ha funzionato con i maschi? Perché non con loro? Perché i maschi sono idioti. I nuovi compratori non vorranno vivere accanto a una sorellanza. Facciamo quello che sanno fare i genitori. Impediamo ai giovani di divertirsi. E' un po' difficile chiamare la polizia senza telefono. Lascialo subito! No! Ma che? Si chiama Filo, testa di pigna. Maledetti telefoni antichi! Quelle ragazze sono fuori controllo. Non lascia mi stare! Usano la loro sessualità come un'arma. Toccano! Gallini, andate via! Non funziona, così diventano solo più sexy! Smettetela! 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 Grazie.